Allora, senti un attimo solo, vorrei, il mio, come ti mandavi per favore la foto che è una foto in esclusiva? Guardate questa foto che gira, guardate, hai capito? Hai capito? L'ho guardato lì, l'ho guardato oggi, naturalmente, di Taranto che ha già, come vedrete, incontrato, da te prima, di una riflita. No, la foto è una riflita, no, la foto è una riflita, no, la foto è una riflita. No, la foto è una riflita, 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 no, la qui ci metta me rosse e degli agumi che adesso vanno a ottenere una nera si metto dentro un secondo sai perché capita? non succede mai perché noi abbiamo le uova che portiamo ogni giorno però a casa partono perché non si può mai sapere se la dovete buttare tutto controllate una volta un altro, un altro, un altro, grazie guardate, come è la un momento, trovo mi sono andato a comparsa quando la mandavi ecco qua questo lo mettiamo qua e dopo non otterremo allora, ti ricordi per montare gli agumi e le urbano o che risale? oppure con il risale allora passiamo più di un risale allora allora, io ho un altro con il sale tu cosa fai? io, allora, l'ossi, aspetto che mi si scalderà mettiamo che si scalderà oh, sì, non ci sei quando danno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il prossimo 4 dicembre, gli italiani saranno chiamati a decidere se votare sì o no al referendum costituzionale. Il quesito riguarda le disposizioni per superare il bicaderalismo paritario, ridurre il numero dei parlamentari e i costi delle istituzioni, suprimere il crema e ridefinire le competenze dello Stato e delle regioni. Nel lettore tracerà un segno sulla scritta sì, se vorrà provare la riforma. Tracerà un segno sulla scritta no, se il 10 vorrà rispuggerla. Il 4 dicembre, parte a votare. Il 4 dicembre, parte a piena d'acqua e sapone, ricevi la scoglia da Ionichimato, un buon peone. Il 6 novembre, c'è anche il bicchiere di acqua e sapone, con la collegenza. La strade della regia di acqua e sapone, visto che avete dato수 al nostro cuoco di schifo di funzione fantasy, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti